La storia d'amore segreta diventa ufficiale. Harry Stiles News, Camille Rove presentata alla famiglia Harry Stiles presenta Camille Rove alla famiglia, la storia d'amore segreta diventa ufficiale Da diverso tempo ormai chi si occupa di gossip ha puntato i propri occhi sulla coppia Harry Stiles Camille Rove. La modella di Victoria Secret starebbe uscendo con il cantante già da luglio ma, entrambi, stanno facendo di tutto per tenere segreta la loro relazione. A parlare di nuovo della coppia questa volta è stato il Tessum, tabloid inglese, secondo cui, stando a quanto riportato da una fonte vicina alla coppia, la storia d'amore tra Harry e Camille sarebbe adesso passata ad un livello superiore. L'ex cantante Deione Direction infatti avrebbe presentato la sua ragazza alla famiglia, ufficializzando così con i suoi cari la relazione con la modella. . Cosa prova Harry Stiles per Camille?. Camille è arrivata esattamente al punto giusto nella vita di Harry dice la fonte rimasta anonima si è divertito molto aggiunge poi la stessa ma sembra contento di uscire con lei. . Stanno andando alla grande. . Harry e Camille avrebbero passato il capodanno insieme a Los Angeles e, inoltre, la ragazza in questo periodo avrebbe anche collaborato con la sorella di Stiles, Gemma, e il suo migliore amico. . Due membri della famiglia di Harry molto importanti per il cantante inglese. . Questa, da quando Harry ha raggiunto la fama, sarebbe una delle relazioni più lunghe. . Crisi superata per Harry e Camille?. . Qualche settimana fa si era parlato di una possibile crisi tra Harry Stiles e Camille Rove. . Il cantante era stato visto filtrare con un'altra, scatenando quindi i rumors sul suo conto. . . Oggi però le voci, stando alle ultime dichiarazioni pubblicate, sembrerebbero essere state smentite categoricamente. . . I diretti interessati interverranno mai pubblicamente per dire qualcosa al riguardo? . Se e quando lo faranno, sicuramente, la notizia non passerà inosservata. . . .